leone veritas tutta la verità nient'altro che la verità su leone dai zitto ascolta secondo te chi si sposerà tra di noi per primo vuoi due tu ti sposerai con un bel ragazzo marco mazzoli e si perché ti sposerai wender sai lì lui spara ogni volta ogni mese spara una volta ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire un al mese devono morire tutti i giorni no scusa questa la devi spiegare si contro se non ci sono 3.000 uccelli sugli alberi ma non cercare sempre delle metafore quale metafora quale metafora questa è la realtà ci sono 5.000 donne sull'albero non sai che cosa vuol dire metafora la metafora quando mangio le favre con la metafora giusta è giusta quando ci sono 5.000 donne sull'albero lui non può sparare tutte 5.000 lui spara una ogni mese sarebbe una bombata ma non puoi dire lui fa l'amore una volta al mese no è troppo è troppo facile finchino devi capire non le capire devi capire non le capire marco ma va via l'audio ogni tanto è lui è la scheda io la scheda ma io c'ho il 335 però devo essere sincero sono un po confuso in questo periodo tu sei stato sempre confuso no questo periodo qua sono confuso sei ancora confuso tu sei con fufu confuso tu vivi con un cinese con fufu con fufu e dai sono confuso in questo periodo sei sempre confuso tu non hai capito niente tiri via la pallotta dal cervello così non sei più confuso in che senso tu c'hai una palla dentro al cervello che ti fa confondere quello che vuol dire leone è che secondo lui tu non sai ancora se sei gay o no ecco beh vabbè gay ormai ancora la vuoi finire o no non sono gay ma siamo misurati dai col metro c'è ancora c'è 30 centimetri di gay guarda tutto puoi dire che non è che sono gay dai sì tutto puoi dire che non c'è un nas invece c'è un nas dalla madonna guarda non ti devi vergognare ma tu come allora ascolta leone tu hai detto che secondo te il mazzoli è gay sì come hai fatto a dedurre questa cosa dai seriamente 70% è gay però il 30% se ti capita perché anche le donne nude sul letto tu non le toccherai mai vuole fare la prova dobbiamo fare quante volte dobbiamo fare questa prova di che mettiamo una donna sul letto non la tocchi ma perché non la tocchi non la tocchi se gli piace fa qualcosa se non gli piace non fa niente non è come te che basta vedi una fessura come il termosifone e chiavi e beh se sei un uomo sì eh ma perché perché è così la vita ma perché tu non hai sentimenti tu sei vuoto sei una scatola vuota li ho venduti all'ortomercato io le sentimento tu non hai amore per nessuno io non hai amici e ti fai odiare anche da quelle poche persone che ti vogliono bene io che io e Enzino ti vogliamo bene sì ma tu sei sei stato capace di farci odiare no anche quel poco di buono guarda non sbagliare su questa cosa qua che te lo mette non sbagliare su questa cosa qua gli amici sono quelli che sono capito noi siamo amici comunque sì amici con la pelle no siamo vabbè amici con la pelle se ci siamo siamo amici stai zitto che il giorno che non si no io parlo hai capito stai zitto stai zitto tu amico del cuore amico del cuore